Instant Gaming è un sito che vi permette di acquistare risparmiando chiavi di gioco per le principali piattaforme. Oltre alla sezione con i principali titoli in tendenza e le migliori offerte, trovate la lista dei giochi attualmente in preordine in cui risparmiare cifre anche importanti per acquistare giochi in arrivo. Ma non finisce qui perché sono disponibili offerte anche sui abbonamenti online, come Nintendo Online, PlayStation Plus e Xbox Game Pass. E se il gioco che vi interessa è per console e la key non è disponibile? Nessun problema perché potete comunque acquistare una gift card in offerta e ottenere del credito per i principali store online, spendendo una cifra inferiore al credito che otterrete e creando quindi direttamente il vostro sconto. E chiaramente non dimenticate di partecipare anche al giveaway mensile per avere la possibilità di vincere un gioco a vostra scelta. Se vi interessa trovate nella descrizione di questo video i link al negozio e al giveaway. Detto questo, grazie ancora a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo video. E salva a tutti cari sconosciuti, io sono Ferio, se preferite me lo ho, che siamo di nuovo qui in compagnia del nostro biblio con il ventilatore che fischia fortissimo. Spero che non si senta. Perché adesso abbiamo finalmente il nostro conoscio completo. E abbiamo altre cose da leggere. Allora, Reverie, il managgio politica. Allora, è una torre inverosimilmente alta nella regione centrale di Walud, che sembra innalzarsi fino ai cieli stessi. I pochi seguaci e il circolo di Malius rimasti in Cineria ritengono che sia stata eretta dagli dèi, i quali un giorno metteranno il giudizio finale delle sue guie. Ed è sempre considerato terreno sacro in cui pochi immortali osano avventurarsi. È stata eretta da ultima al suo arriva Valistea. Dalla sua cima è esaminata il flusso dell'Ethere nelle terre, determinando la posizione ottimale per i cristalli madre. Ok. Peccati di Zemechis. Zemechis, sì. Allora, è un incidente raccontato dai miti e nelle leggende di Valistea. Se vogliamo credere a tali racconti, l'umanità ebra della propria avarizia decise di sfidare gli dèi e a seguito di questa arroganza ne subì il castigo divino. L'enorme cratera del Mechia, che si dice sia stato il luogo in cui si svolta la battaglia finale di questo grande conflitto, è circondato da reliquie e rovine, il che sembrerebbe confermare alcune verità celate nei racconti, mentre la verità è che è un incidente nel quale dei caduti lanciarono un assalto contro il cristale madre di Zemechis per reclamarne il potere, provocando di conseguenza l'ira di Ultima. In risposta a ciò, l'autoproclamata divinità distrusse il cristallo, lasciando un enorme cratere, non creatore, cratere, e una leggenda monitrice che si diffuse in tutta Valistea. Porca miseria, però, tanto forte. Allora, coloro che albergono in sé il potere dormente di un Econ, i dominanti non sono altro che una tappa fondamentale nella creazione del ricettacolo perfetto di Ultima, Mythos. Quando Ultima ha gettato i semi dell'umanità, è infuso coloro che erano stati incaricati di proteggere un cristallo madre di un'affinità elementale, un potere destinato ad aumentare nel corso delle generazioni fino a far emergere gli Econ, i semi, infatti, di semi di... Sebbene il ricordo dei tali poteri resti anche dopo che vengono assopriti a Mythos, essi richiedono un prezzo maggiore a chi li invoca. Questo ti spiega perché, appunto, Dio non si trasforma, eccetera, eccetera, eccetera. Si può fare, però è più difficile. Allora, questo l'abbiamo letto. Il rifugio sì. Neanche la ceramica è però in modo al passare il tempo, quindi il rifugio bisogna continuare a passare. Un'antica civiltà che prosperava dei caduti, no? Migliaia di anni fa. Sebbene non siano rimaste testimonianze dirette dei decaduti, le prime leggende del corpus moderno parlano di loro come dei popoli del Magitech, il cui apice della tecnologia magica erano le aeronavi, enormi città che solcavano i cieli. Il confronto tra i resti d'Italia dirigibili e altre strutture antiche collegate a Ultima rivela lievi ma marcate differenze e sembra suggerire che le aeronavi fossero soltanto una copia di queste ultime. Quindi in realtà era... Gli decaduti hanno copiato la roba aliena di Ultima. Pare che la ricerca dei segreti più preziosi di Ultima ne abbia segnato la fine quando inviarono la loro frotta a Zemeckis causando la tragedia che rientrò la loro civiltà. Civiltà degli Ultima L'antica civiltà della collettività divina degli Ultima. La scoperta della magia li aiutò a prosperare ma a un costo terribile, l'arrivo della piaga. In seguito alla caduta della loro città e la morte della loro gente i pochi superstiti fuggirono nell'incontaminata Valistea per porre le basi della loro rinascita. La poditerio, situata sottoporta a Fenice, la torre di Reverie a Valud sono entrambe reliquie della loro civiltà e precedono di molto le rovine dei decaduti. Peccato che non si approfondisca il discorso che fa appunto... cioè tutta la roba dei Rossfield che parlavano con gli antenati era una supercazzola, era l'ultima che parlava al dominante probabilmente. Allora, la pietra rete è una misteriosa stella di ceramica che si trova in rifugio. Se penso minimo... Lo sorte a liberare il suo potenziale nascosto sembra indicare un qualche legame con l'ultima. È probabile che questa pietra così come altre torri di simile fattura che punteggiano il paesaggio sia stata generata dalla creatura prima di addormentarsi per fornire il perfezionamento di mitos. Tanti ti ci alleni, no? Allora, l'obelisco, che l'avevamo già letto, in questo caso dice la funzione di tagli oggetti è di condurre il flusso di etere verso i cristalli madre così da attingere più rapidamente l'energia vitale della Terra. Il funzionamento degli obelischi non risulta intaccato dalla distruzione dei cristalli madre rispetto ai quali sono entità separate. Dopo che l'ultima ha lanciato primo genesis lo squilibrio nell'etere ha portato questi obelischi a brillare ancora più intensamente. Ti di Zemeckis. La tribù che un tempo abitava le terre intorno al cristallo madre perduto di Zemeckis. Tale cristallo comunicava direttamente con origine al cui interno ultima vegliava sul mondo nel proprio sonno. In questo modo gli umani che vivevano intorno al cristallo madre vantavano un legame più stretto di tutti con il proprio creatore e furono proprio questi a fondare il circolo di Malius per tenere in vita la parola del loro signore e futuro salvatore. Dopo la tragedia di Zemeckis e la prima caduta dell'umanità i pochi sopravvissuti fuggirono al continente esterno dove continuarono a venerare il loro dio in attesa del giorno in cui lo avrebbero raggiunto in paradiso. Mito del salvatore. Guarda che bello che è. Tra gli incantamenti del circolo di Malius si narra che il signore Onipotente prima di rifuggersi tra i cieli consegnò ai suoi figli una profezia che annunciava la loro futura salvezza. Un mito che sopravvisse tra le molte religioni popolari che in seguito avrebbero soppiantato questo culto. Sebbene a lungo considerata nient'altro che una leggenda è possibile che essa si rifaccia un reale evento storico le parole finali che ultima rivolta al genere umano prima di entrare in letargo nelle profondità di Valistea. Le poche fonti rimaste non sono concordi sulle esatte parole usate da ultima ma su quattro aspetti sono del tutto allineate che in futuro nel giorno dell'area Sadeconti l'incarnazione del Signore sarebbe apparsa tra gli esseri umani e avrebbe ricostruito il mondo che l'avvento di questa incarnazione sarebbe stato preceduto dalla venuta di diversi servitori celesti dotati di grande potenza che sono gli Econ che i fedeli del Signore avrebbero radunato questi servi per portare a termine l'incarnazione e che questi per la loro realtà sarebbero stati ricompensati con una gioia infinita che è quello appunto che fa Barnabas il servitore di Ultima Ultima ha dato loro vita al suo arrivo a Valistea incaricandole di difendere le coste del Regno ed eventuali forze esterne che potessero interferire con il suo piano quindi dal continente Oggigiorno una divinità che le utilizza soltanto per mettere alla prova la forza e la resistenza del suo ricettacolo carino questo dettaglio gli annali dimostri il cronista studioso di storia a Valistea poco dopo aver incontrato un giovane Arpocrates nel continente esterno aveva alimentato la sua fama di conoscenze e mosso torno ai gemelli dove su lunghi anni vaga un bondaggio da una rovina all'altra la ricerca delle vestigie del passato di Valistea studiando i toni c'è ancora roba misteri del Regno che mi sono persa ah sì perché ne abbiamo trovati nuovi mi sa allora ah sono quelli ok allora vabbè primo Wirm una volta concepito il pieno per assorbire l'etere del terreno usarlo per ripristinare il pianeta i fratelli di Ultima fratelli vabbè si trasformarono nei cristalli madre nei cuori in essi contenuti lasciandosi dietro soltanto Ultima va bene per rascondere il loro vero scopo questo è dato a ogni cristallo madre il nome delle parti di un antico drago lasciando all'umanità le leggende ancora oggi tramandate quindi non c'era un drago vero il nome che Ultima attribuisce al ricettacolo al potere limitato riconosce mitos in Clive ora mette Clive contro gli altri Econ affinché possa acquisire il loro potere e avvicinare il suo ricettacolo alla perfezione è tale scopo che avrebbe creato l'umanità così che un giorno potesse generare un ricettacolo abbastanza potente a lanciare l'incantesimo capace di portare in vita la sua tipu morente e riprosmare il mondo sulla loro immagine ricostruzione del mondo tra i miti è il salvatore della tradizione valisteiana e molto diffuso il concetto di rinascita l'ascensione dei fedeli al paradiso ammesso che tali miti affondino le radici nella dottrina del circolo di Malius si potrebbe presumere che un tale elemento corrisponde all'incantesimo che Ultima aspira a lanciare tramite il suo ricettacolo è pur vero che la rinascita operata da Ultima non salverebbe i suoi fedeli limitandosi piuttosto a riportare in vita la sua stessa razza l'unica che sopravvivebbero al mondo ricostruito l'incantesimo di Ultima la magia che Ultima intende lasciare per risvegliare i suoi fratelli dal sonno eterno e ricostruire il mondo per farlo ha bisogno di un'immensa quantità di etere assorbita dalla terra nel corso dei secoli grazie ai suoi cristalli madre e di un ricettacolo abbastanza forte a sopportare l'incanalamento di una simile energia ovvero un'entità nota come mitos non sta scritto da nessuna parte che mitos comunque sarebbe sopravvissuto a prescindere quindi che quando Clive nel finale si accorge che questo video uscirà come bonus chiaramente ci sono spoiler quando Clive accorge dopo aver salvato comunque aver fatto l'incantesimo su Josh dice forse dopo tutto il ricettacolo di Ultima non era abbastanza forte no probabilmente non era nemmeno stato pensato per sopravvivere semplicemente era fatto per reggere botta fare l'incantesimo e scoppiare ok abbiamo sbloccato chiaramente Ultima manifestato uno dei tanti avatar scartati di Ultima questa versione dell'autoprotaclamatasi di divinità attendeva Clive Josh e Dino allora arrivò su origine sebbene strutturalmente simile a Lego infernale i secoli trascorsi all'interno del cristallo nero ne hanno rallentato drasticamente il deterioramento preservandosi la forma e la funzione ultimalius peccato non c'è il modello 3D il vero nome dell'incarnazione di Ultima che trasse oddio scusate non è vero Ultima è bellissimo che trasse in salvo Valistè a Valistè gli ultimi esemplari della sua specie quando origine fu sepolta sotto terra per assorbire l'etere di cui avrebbe avuto bisogno per ricostruire il mondo nel cielo sopra di essa fu collocato un grande santario da cui sorvegliare l'umanità dopo aver concesso all'uomo il dono della magia e i semi che sarebbero germogliati nella profezia di un futuro salvatore Ultimalius come Saffer Simur una cosa del genere insomma c'è uno dei Simur finali mi ricordo il nome con tutte le robine dietro che girano e poi è tantissimo anche con i leddini le stronzatine anche le varianti di Omega maschio e femmina in realtà è Alfa Omega di Final Fantasy XIV lui anche è un un mischione mi piace molto continuo a pensare che i capelli fanno schifo comunque sia i suoi che è di Ultima fanno veramente cacare i capelli allora Ultima esempio tanto tempo fa sedici superstiti di questa razza raggiunsero Valistea su una nave chiamata Origine per porre le basi di l'incantesimo incredibilmente potente sedici tra l'altro che avrebbe rianimato i loro fratelli caduti e ricreato il mondo gli Ultima condividono una coscienza comune e sono in grado di combinare i loro poteri già immensi in una singola forma trascendentale ok bello che lo spieghi comunque alla fine cosa manca qua Oscar Clive lo presse con sé come un studiero dopo che i guardiani fiamme ripresa la pozza che se Oscar tornava al villaggio e si porta la suzia ripresa la sua pozza non frega niente va bene allora è arrivato il momento è arrivato il momento della geopolitica oh yes eh sì che voglia valistea valistea un regno formato dei continenti gemelli di ciclone e cineria nei quali si ergono da tempo in memoria i cristalli madre ai piedi di ogni cristallo sono sorte nel corso dei secoli grandi città e intorno a esse potenti nazioni sebbene queste terre siano da secoli benedette dalla luce della magia recentemente un inquietante oscurità ha iniziato a divorarne i confini la piaga poi questa situazione potrebbe cambiare ora che siede su discepoli hanno avviato la propria campagna per distruggere i cristalli seminando causa e confusione in ogni angolo del regno quando le inquietanti inubi evocate da Ultima si sono addensate sopra Valistea e dei ricati equilibri che governano il potere magico dell'Ether si sono finalmente infranti cambiando per sempre il regno innumerevoli secoli fa Ultima arrivò a Valistea fuggendo dalla piaga che stava diruando la sua patria che non si capisce da un altro pianeta e giurò di ricreare il mondo dando inizio la nuova era fondata soltanto sulla ragione fu lui a posizionare i cristalli madre in ogni angolo del mondo affinché potessero raccogliere le lettere che gli occorreva per realizzare il suo obiettivo Ciclonia è il più occidentale dei due continenti con le sue distesse settentrionali e ghiacciate le sue paludi centrali temperate le sue calde terre meridionali vanta una varietà di clima e cultura mai viste in altre zone dei regni noti a Ciclonia Cineria sebbene leggermente più piccolo è il suo gemello occidentale il continente orientale di Valistea vanta montagne più alte e coste con pochi alberi protette su sutilate e costere quasi inaccessibili a un posto di merda essendo stata corrotta dalla piaga ancora più di Ciclonia il regno di Valude è l'unica nazione rimanente il rifugio di Sid è il rifugio nascosto nelle terre infette della piaga della Ciclona centrale da cui Sid gestisce la sua comunità segreta mirata a liberare portatori sebbene sopravvivere alle terre morte sia solitamente ritenuto impossibile nelle terre morte una combinazione di rovine quasi indistruttibili dei decaduti e di grande ingegno ha portato alla creazione di un rifugio sicuro dove chi crede nella causa del suo leader può sopravvivere in modo semplice ma in pace poi da qui Sid gestisce la sua società segreta mirata a liberare portatori sono così abituati a essere chiamati marchiati a essere maltrattati dai loro padroni che questa prima esperienza di qualcosa di simile alla libertà fosse anche solo un pasto caldo un letto comodo e per molti un notevole shock dopo la distruzione del dominio vi risiedevano finché l'ubicazione di questa nascente utopia non è stata scoperta da Hugo Kupka il dominante di Titano nell'873 in una sola notte il rifugio è stato distrutto e solo meno della metà dei suoi abitanti è riuscito a sfuggire al massacro perpetrato da Kupka e dai suoi uomini poi rifugio fondato sotto la guida di Clay Crossfield il quale ha assunto il titolo di Sid dopo la morte dell'ex capo dei ribelli e la distruzione del precedente rifugio per mano di Titano in esso si è riunita una comunità di persone con le stesse ideologie giunte a tutto il regno per costruire un luogo in cui le persone possono vivere e morire alle proprie condizioni come il suo predecessore è costruito tra alcune rovine e decaduti in mezzo alle terre morte contrariamente al precedente rifugio però è situato in mezzo al lago il Ben-Umir le cui acque permettono di individuare eventuali invasori ben prima del loro arrivo Ben-Umir un lago nelle terre infette dalla piaga e i confini meridionali dell'ex Gran Ducato di Rosaria che prende il nome dal drago che secondo le leggende creò il bacino quando cade dai cieli le sue vaste acque sono disseminate di aeronavide decaduti il che richiama alla mente l'immagine di un cimitero la sua posizione isolata lontano dalle rotte commerciali nel cuore delle terre morte l'ha reso una scelta scontata quando Clive ha preso in mano le eredità di Sid spezzano le dizioni sono un'unità composta da residenti ai rifugio in realtà da combattimento e con un addestramento marziale impegnata in operazione di liberazione dei portatori dalla schiavitù nato nel rifugio di Sid come un gruppo di persone che condividevano le stesse idee avevano scelto di liberarsi ai loro marchi portatori per poter servire la causa sul campo l'ordine ampliato notevolmente si soranchi che le sue operazioni doveva il trasferimento a Benumir il tutto sotto l'occhio vigile di 8 nato nel rifugio di Sid l'ordine ampliato notevolmente sebbene 8 gestisca le loro attività le operazioni quotidiane sono affidate a Toris e Coll le potenziali nuove reclute devono sottoporsi ad un addestramento rigoroso e superare una prova di iniziazione priva di unirsi e gli spezzamaledizioni caduta del rifugio un assalto da parte di Hugo Kupka il dominante di Titano e della sua guardia privata il rifugio fondato tra le rovine dimenticate da tempo infettate alla piega venne completamente distrutto e molti collaboratori di Sid e Deportatori che questi aveva liberato finirono uccisi madonna gran ducato di Rosaria una nazione che occupa le distese occidentali del continente dei cicloni alla cui il capitale è Rosalit Rosaria era originalmente formata da una serie di domini minori attualmente uniti sotto lo standard della cittura Elvin-Rossfield non avendo alcun cristallo madre il ducato è da tempo impegnato in un feroce conflitto con il regno di ferro per il possesso e soffio di Drago poi dopo l'annessione imperiale era una provincia imperiale di Rosaria quando il ducato rimase senza un capo in seguito all'attacco di Porta Fenice i sangueferro approfittarono dell'occasione per attaccarne la capitale la loro campagna militare ebbe però vita breve poiché il sacro impero di Sanbrek torna in forza per reclamarne le terre lasciando al fiero ducato altre scelte se non divenire uno stato passallo è divenuta una provincia imperiale dopo l'annessione nel 60 Annabella Lesage un tempo duchessa di Rosaria ora imperatrice Sanbrek ha ottenuto la gestione della sua ex padre e il titolo di vice regina quello che ha accettato con sadico entusiasmo imponendo un regime di tassazione opprimente e una costante sorveglianza nonché la persecuzione di tutti i portatori dopo l'assedio di Rosaria invece con la caduta e soffio di Drago la vita degli abitanti di Rosaria è diventata gradualmente più difficile e migliaia di persone sono state costrette a cercare rifugio all'interno intorno alle città già sovrappopolate nell'878 le forze di Ugo Kup hanno invaso l'aria portando ulteriori misere alla popolazione già vessata provincia imperiale di Rosaria dopo la distruzione di Sponde Gemelle dopo sebbene Rosaria sia uno stato vassallo dell'impero da quasi due decenni la rivolta di Sponde Gemelle agribitata al principe Dio e alle sace dei suoi fedeli dragoni e la successiva morte del sacro imperatore dell'imperatrice hanno lasciato Sanbrek con i mezzi appena necessari a sostenere se stessa l'ex Ducato ormai è uno stato suddito più di Rome che di fatto Rosalit ok è la capitale Ducato di Rosaria Castel Rosalit di Morella Arciduca situata al centro di questo insediamento purtroppo l'espansione della piega ha reso inabitabili vaste zone nelle terre a nord allora dopo la caduta di Porta Fenice Annabella le Sace con tempo governava come duchessa detiene ora il potere assoluto come sacra imperatrice buona parte dei cittadini di Rosalit abbandonato alla regione è stata catturata ora gli unici abitanti sono avanciata di nobili e pochi altri che hanno giurato fedeltà all'impero per paura e ritorsioni allora poi dopo l'assalto di Ugo è stata data alle fiamme e su un magnifico pastello è stato saccheggiato costringendo molti i suoi abitanti a scappare che tristezza va bene questo alla fine è la stessa cosa un'opera architettonica che renderebbe orgoglioso persino il fondatore il castello si erge fin dalla fondazione del Ducato è avveiato sulla scese questa fiera nazione sui abitanti la città sottostante dal 1860 quando il Ducato è stato annesso il castello ospita una guardigione sanbrechiana ben armata sebbene resti ben poco a governare dato che la capitale è stata distrutta Porta Fenice eccola Poditerio Porta Fenice è una fortezza cinta da mura situata vicino al confine nord occidentale di Rosaria originariamente era stata costruita per fungere davamposto contro i territori settentrionali ma il suo vero scopo è celato nelle rovine e sotto qui è stata eretta sopra qui è stata eretta qui in un'antica camera accessibile soltanto dal dominante del fuoco si ritiene il rito della comunione ancestrale un importante rituale in cui si dice che la Fenice possa sentire le voci di antenati e il Ducato dopo la distruzione del dominio distrutta nel 1860 durante la cosiddetta notte delle fiambe dopo l'assalto al castello a parte dei sabotatori sanbrechiani si è concluso con lo scontro da due icon del fuoco il terreno ancora pieno di crepe e fenditura dimostrazione della ferocia della battaglia la porta stessa è sepolta sotto un cupolo di macerie annerite dal fuoco insieme all'orgoglio di Rosaria caduta dinanzi all'impero poco più tardi Apoditerio sotto di essa si trova l'antica rovina è raggiungibile attraverso un percorso sotterraneo prima che Rosaria diventasse una provincia imperiale la porta rivestiva in grande importanza per il popolo del Ducato in quanto sede il rito della comunione ancestrale Apoditerio un luogo di venerazione situato nelle profondità di Porta Fenice un'antica fortezza ai confini nord-occidentali dell'ex Ducato di Rosaria un grosso murale domina questa camera sacra dove un tempo si indeneva il rito alla comunione ancestrale una cerimonia celebrata al dominante del Ducato prima di partire per la guerra esercito del Ducato i leali soldati del Ducato di Rosaria servono il loro comandante dell'esercito incaricato di compiere compiere il volere del suo sovrano l'arciduca chi dimostra buona propensione o chi ha la fortuna di essere nobile di nascita può diventare uno scudo una guardia dell'arciduca stesso i guardiani della fiamma sono un gruppo clandestino di lealisti ducali che guida la ribellione contro l'occupazione imperiale di Rosaria e l'imperatrice Anabella molti di loro sono sopravvissuti all'attacco imperiale a Porta Finice dell'860 e sono bene nel ruolo dell'impero nella caduta del Ducato risiedono nel distretto abbandonato di Lazarus fuori da Porto i soldi da dove conducono le loro incursioni per liberare i portatori del gioco imperiale ok dopo che la loro base nel distretto di Lazarus è stata distrutta da un flusso di etere e si sono spostati a nord dove continuano le loro operazioni per far rinascere il Ducato insieme a Marta alla fine si sono ristabiliti a Pozzo Orientale dove lavorano per rivalizzare il villaggio insieme ai portatori liberati da loro e da Marta la casata Rosfield è la più alta delle casate nobiliari di Rosaria il dominante della Fenice nasce sempre nella stilpe di Rosfield quindi è sempre un Rosfield che siede sul trono docale sette casate sono le più nobili casate dell'antica Rosaria di cui la casata Rosfield è la maggiore e la più importante affondano le radici nelle diastie reali delle piccole nazioni indipendenti che furono unificate con la fondazione del Ducato ogni casata aveva la sua torre e volevocio in capitolo nella politica del Ducato ma furono messe tutte a tacere quando la regione cade nelle mani dell'impero e l'impero di Cianabella prese le radini di Rosaria abbiamo gli imperituri un ordine segreto che serve l'ordine di Rosaria dalle ombre venerano la potente Fenice e il suo dominante e un tempo presidevano i riti della comunità ancestrale a Porta Fenice pochi al di fuori dell'ordine sanno della sua esistenza persino tra gli esponenti più in vista della nobiltà rosariana ancora oggi con Rosaria ormai ridotta una provincia imperiale continua a servire il legittimo custodio della fiamma a sua grazia a Joshua Rosfield la loro realtà la loro lealtà verso la sua grazia a Joshua Rosfield è assoluta nessuno dei suoi membri esiterebbe a dare la vita in suo nome per sua richiesta si sono dedicati a scoprire la verità celata dietro al misterioso essere noto come ultima Lealisti ducali coloro che sono leali al compiantarci Duca Elwin e che lavorano alla rinascita dell'ormai caduto ducato di Rosaria dopo la nessione di Rosaria all'impero molti giurarono fedeltà alla nuova viceregina l'imperatrice Nabella anche a causa delle persecuzioni inflitte a coloro che siano rifiutati di farlo le vessazioni presto culminarono nel rogo di poste orientale da parte delle truppe imperiali con il pretesto che la loro riluttanza a consegnare portatori di Rosalith fosse la prova della loro infedeltà questo termine aveva un significato diverso prima del Sacro Trono questo termine Lealisti ducali e forse aveva un significato diverso prima dell'occupazione imperiale Rosaria era stata fondata con l'unificazione di diverse piccole nazioni indipendenti le casate mantenono il loro potere anche in seguito all'unificazione gerando talvolta attriti tra i Lealisti che sostenevano ah ecco i Lealisti erano quelli che appunto erano le ali all'Arciduca rifugio di Marta e un piccolo insediamento annitato sui colli rocciosi che sorrascono in basso pieno i paludosi e la Rosaria sud orientale nei suoi alloggi si riuniscono diversi mercenari e nelle sue strade si girano vari mercanti ambulanti i quali quando non sono in servizio bevono birra e cantano dalla mattina alla sera nella tavera nel villaggio che ne condivide il nome sebbene il Ducato sia divenuto un luogo meno gioviale da quando è stata innessa in Vimpero il rifugio è un raro raggio di sole nell'oscurità e buona parte dei viandanti si è sicura di fermarvi se quando passa in zona le asce di sangue sono la banda dei mercenari incaricata di proteggere il rifugio di Marta vista l'assenza di qualsiasi aiuto da parte della vicina guardigione imperiale tocca a loro stare di guardia sulle strade e tenere bestie e bandite e le paduti lontane dal territorio l'abbazia di Gleidemond insieme di umili edifici di pietra annidati sopra la baia di Sorowais nei vastopiani sudorientali della provincia imperiale è stata costruita per diffondere la fede gregoriana dopo che il Ducato di Rosario è stato annesso al Sacro Imperio Sambra che è pertanto uno dei rari esempi di architettura imperiale nella regione Pozzo orientale un borgo situato nella parte orientale della provincia imperiale di Rosario un tempo era circondato da terre fertili ma l'avanzata della fiaga ha costretto buona parte dei suoi abitanti a trasferirsi altrove dopo l'attacco a Porta Fenice nel 1860 e la successiva invasione di Sangueferro molti sono fuggiti qui compresi i portatori che hanno perso i loro padroni tuttavia la maggior parte della popolazione rimasta è stata sterminata dalle epurazioni dei portatori ordinata all'imperatrice Anabella ormai il villaggio resta abbandonato in rovina ma dopo la riconquista i banditi in seguito sono stati scacciati alle rovine nel villaggio è stato reclamato da un gruppo di portatori liberati dai guardiani alla fiamma di Sir Wade che di recente hanno perso il distetto di Lazarus e i porti soldi per colpo di un flusso dietro pulizia di posta orientale fu un brutale la pulizia fu un brutale attacco contro il villaggio rosariano nell'873 Anabella Lesage Sacra Imperatrice ordino il massacro di tutti i portatori ospitati dagli abitanti di tutti i realisti e il ducato che avevano offerto loro il rifugio nella carneficina che seguì la popolazione in posta orientale venne decimata e il villaggio finì per essere abbandonato Amber è un tranquillo insediamento incastonato tra gli arti picchi nella parte meridionale situato molto lontano dalla capitale i suoi abitanti sopravvivono esportando ciò che riescono a coltivare al terreno roccioso e quel poco e raccolgono non posso merda Molodia Auldil Auldil sì un villaggio un tempo prospero di costruttori navali situata all'imbocco dei arti la più grande baia di Rosaria i suoi abitanti sono stati massacrati e gli scudi neri inviati dalla viceregina quando questo ha scoperto che i guardiani e la fiamma offrivano rifugio ad alcuni portatori locali il ponte di Bewitt è un ponte costruito durante l'epoca l'acqua d'oro del Ducato che attraversa parte della baia nota come gli arti e collega Rosario Orientale con la capitale in origine doveva essere parte dell'acquedotto transrosariano che avrebbe portato l'acqua nelle zone settentrionali colpite alla piaga e con essa l'occupazione per gli artigiani e i commercianti locali ma il progetto fu abbandonato alla morte dell'arciduca il stretto di Lazzaro è un'esclusiva area residenziale cinta da mura situata appena fuori dai confini orientali di Porto e Solde un tempo era il fiore all'occhiello della città e ospitava molti nobili del Ducato tuttavia dopo che l'impero ha trasferito la propria capitale nel dominio Porto e Solde è stato abbandonato e quello che era un distretto riservato all'elite è stato presso occupato da ladri e tagliagole dopo che era in realtà un gruppo di rivoluzionari ducali noti come guardiani della fiamma tuttavia la loro occupazione si è conclusa per colpo di un flusso dietro Porto e Solde è una città portuale situata sulla costa sud-occidentale della provincia imperiale di Rosaria rivaleggia con Rosalite per dimensioni e nei giorni glorici del regno dell'arciduca le sue strade bruricavano di mercanti provenienti da tutta Valistea purtroppo quei giorni sono mai passati e l'occupazione sanbrechiana ha soggettato tutto quanto dai mercati e alle istituzioni militari Cressida un villaggio situato nel cuore di Acquitrini la Rosaria Centrale un tempo era sede di un acquedotto che si sperava avrebbe portato acqua alla capitale ma la costruzione non è mai stata completata a causa della nessione del ducato da parte del Sacro Impero ed è improvviso flusso di bestie feroci costrette a migrare dall'avanzata della piega verso sud ora Giaci ha abbandonato poiché molti dei suoi abitanti sono fuggiti Notte delle Fiamme un attacco degli imperiali contro le forze rosariane stanziata a Porta Fenice lanciato con il favore della notte nell'860 l'arciduca Alvin Rosvid venne ucciso durante i scontri insieme su due figli sebbene i cadaveri di questi ultimi non vennero mai trovati poiché ritenuti bruciati nelle fiamme infernali si dice che l'attacco si è stato agevolato al tradimento della duchessa sebbene le spiegazioni ufficiali cercarono di attribuirlo a rispiegabile perdita di controllo della Fenice che è stato un incidente territorializzazione di Rosaria nell'861 i Sangueferro sfruttarono il crescente dissenso dovuto ai problemi interni di Rosaria dopo la notte alle fiamme per lanciare un attacco che inflisse perdite devastanti a una nazione gentebolita privandola del poco potere che le restava in seguito nello stesso anno Sanbrek ne approfittò e costrinse quello che un tempo era il fiero ducato a sottomettersi a un'ultima umiliazione diventare uno stato vassallo dell'impero come pianificato dalla duchessa Anabella e dai suoi conspiratori assedio di Rosalie è un evento durante il quale Ugo Kupka per vendicare la morte di Benedicta Arman dietro al nome del fuorileggio si nascondeva in realtà Clair Rosfield attaccò la capitale della sua matavecchia patria la città divenne un campo di battaglia e in mezzo alla devastazione molti innocenti finirono per perdere la vita o di la bonaccia l'avevamo già letta qualche motivo a quitrino di tre canne un'area paludosa nella parte orientale della provincia imperiale di Rosaria le numerose baracche disseminate sembrano suggerire che un tempo l'area fosse parzialmente popolata tuttavia ormai sono in rovina abbandonate e gli abitanti sono fuggiti Scoiera del Grido di Falco una località della parte meridionale della provincia imperiale nota per le sue particolari formazioni rocciose ci sono moltissime teorie su come si sia arrivati a simili stratificazioni dai movimenti naturali del terreno agli sconti trei con orbe defunti fino ad arrivare alla magia dei decaduti tuttavia se interpellati gli abitanti che vivono all'ombra della Scoiera come ad esempio il residente del piccolo villaggio di Amber risponderanno semplicemente che una roccia è soltanto una roccia oh sacro impero di Sandbrek adesso dobbiamo partire all'inizio una nazione che occupa e distese nord e orientali del continente di Ciclonia la cui capitale è l'importante città di Oriflamme Sandbrek è la più grande teocrazia del regno e vanno proprio Cristallo Madre testa di drago sotto il governo del sacro imperatore gli abitanti di Sandbrek hanno una vita giata grazie alla benedizione del cristallo che ritengono un dono della dea la battaglia di Belostor Sandbrek ospita il cristallo madre noto come testa di drago l'impero è in guerra con il regno di Valud situato oltre lo stetto di Auta fin dalla battaglia dei regni gemelli del 865 a giudicare dallo scontro a Belostor del 873 entrambe le parti non hanno alcuna intenzione di ritirarsi ho sbagliato dopo la nessione di Rosaria tecnicamente nell'impero il potere politico appartiene a cinque cardinali ma anche loro sono vincolati ai capricci del sacro imperatore quando questi si interessa a qualcosa nell'860 per votare l'imperatore i cardinali votarono un piano per liberare Rosaria dalle vili forze del regno di ferro l'educato non ebbe l'alta scelta se non piegarsi e diventare una provincia imperiale fede nella dea San Breck la più grande teocrazia l'impero è governato al sacro imperatore per sonificazione stessa della dea secondo la fede gregoriana servito dai fedeli cavalieri al sacro drago più noti come dragoni dopo la caduta di testa di drago quindi dopo aver ignobilmente perso testa di drago seguito di un attacco da parte dei sidi del fuorileggio nel 873 l'impero ha messo gli occhi sul cristallo madre del suo vicino il domino cristallino le legioni di San Breckian ne hanno invaso i territori storicamente neutrali e ne hanno spostato la capitale imperiale a sponde gemelle questo spudorato atto di conquista ha scosso tutta Valistea e ne asprendo le tensioni tra l'impero e Dalmechia dopo l'ascesa del potere di Olivier apparentemente non soddisfatto del caos generato dal trasferimento della propria corte nel domino cristallino da poco conquistato Silvestre del Sacio ha scelto di acuire ulteriormente le incertezze nominando sacro imperatore il suo secondo genito Olivier mentre questo era ancora un bambino nell'873 una rivolta guidata al principe Dion le Sacia ha turbato l'ordine politico e militare diffondendo disordine e distruzione in tutto il regno questi sconvolgimenti sono stati ulteriormente inaspriti dal lancio di primo genesis da parte di ultima che ha distrutto sponde gemelle e dettato al regno nel caos Oriflam è la capitale del Sacro Impero di Sambrec situata nella ciclonia nord orientale nella penisola che domina la baia di Olyfeist Olyfeist Ospita il cristallomadre noto come testa di drago qui si trovano anche tutte le maggiori istituzioni dell'impero compreso Castelbianco Wyrm in cui vive il Sacro Imperatore in cui si riescono i cardinali dopo l'attacco di Sid e il fuorileggio venne deciso di trasferire il trono agli esercii a sud nel domino cristallino senza chiedere l'approvazione degli abitanti da loro Oriflam è in graduale declino avendo perso la benedizione della madre e tutti i benefici che questa comportava Castelbianco Wyrm è l'impotente cittadella a cui il Sacro Imperatore governa su tutto il proprio regno con il cristallomadre che eserge sopra di esso la capitale imperiale di Oriflam che si stende ai suoi piedi questo edificio è davvero una meraviglia architettonica testa di drago è un cristallomadre situato nel mare della Grazia nella parte settentrionale di Sambrec testa di drago torreggia sulla sacra capitale di Oriflam è un'impotente sagoma testimonianza del potere della stabilità dell'impero tuttavia i misteriosi flussi di etero lo spettro e la piega in continua espansione hanno portato alcuni governanti a interrogarsi su tale stabilità e infatti torreggiava sulla sacra capitale poi nell'873 è caduto caduta di testa di drago nell'873 ha distrutto il cristallomadre un attacco ardito e senza precedenti le indagini hanno rivelato che infiltrati sfruttarono il caos causato da un flusso di etere per accedere al sacro santuario dopo l'incidente si della sua fazione criminale divennero ricercati in tutta l'alistea Kernorvent è una fortezza imperiale situata lungo i confini meridionali occupa una posizione chiave accanto alla fascia cristallina e pertanto gode di fortificazioni formidabili all'interno delle sue mura si trovano gli alloggi una chiesa una prigione scorte sufficienti a sostenere gli occupanti in un lungo assedio esercito imperiale l'isteme delle forze del sacro impero di Sambrec sebbene sia ufficialmente sotto il comando dei cardinali in realtà le legioni servono il sacro imperatore Silvestre de Sash sul campo di battaglia i dragoni i lanceri straordinari rimati in tutto il regno sono l'arma più temibile dell'impero scendendo dei cieli per seminare terrore e confusione tra gli sventurati nemici mentre i bastardi sono un'unità di assassini esperti schierata nella gola di Nisa nel cuore del territorio del Mechiano con l'incarico di Mineral sono tutti i suoi membri compreso il suo capo Tiamat sono deportatori uomini marchiati costretti in schiavitù per la loro capacità di utilizzare la magia cavalieri sacri dragoni truppe d'elite del sacro impero di Sambrec guidate dal principe Dion le Sash reclutate sentite rumori strani mi chiedo scusa il delirio fuori casa reclutate per lo più dalle nobili del regno il loro status di cavalieri del sacro drago li eleva ulteriormente agli occhi del popolo nella battaglia dei confini del 878 così come molti conflitti nel corso degli anni hanno guidato fieramente le cariche degli assalti dell'impero nella battaglia dell'878 tuttavia l'opposizione del principe Dion alle meccanazioni del sacro imperatrice ha spinto i dragoni a ribellarsi in un'insorrezione che le avessi cadere improvvisamente inesorabilmente in disgrazia dragone è un cavalier armato di lancio al servizio del sacro impero di Sambrec sono addestrati nell'utilizzo di uno stile di combattimento unico e molto acrobatico ispirato alle movenze dei draghi è cartarizzato quindi a fondi improvvisi nonché da balzi e tuffi spiazzanti le scritture gregoriane destinano i draghi come creature divine un doro della dea allo stesso modo i loro omonimi sono considerati alla popolazione sacro ordine degli scudi della cremagliera nera un ordine dei cavalieri istituito nella provincia imperiale del Rosario per perseguitare e depurare i portatori e coloro che li proteggono dipingono le loro armature di nero per differenziarsi dai dragoni argentati e contrariamente a questi ultimi sono temuti disprezzati scudi neri è uno scordine dei cavalieri istituito all'inferno aspettate dall'imperatico come uno dei suoi primi provvedimenti per purificare la provincia il più delle volte marciano in piccoli gruppi ma è noto che la loro schiera principale si riunisce per condurre incursioni su larga scala sono incaricati di purificare la provincia ovvero eliminare sia i portatori che coloro che vengono riconosciuti come lealisti alla morte di Annabella molti scudi neri ormai privi di un leader facero il ritorno a Sambra che permette al servizio dell'ex lord giudice capo e vigila sulla apertura concilio degli anziani consiglieri del sacro imperatore Sambra che è il massimo organo di governo nell'impero il concilio è composto da cinque cardinali della chiesa gregoriana a cui spetterebbe il compito di governare al posto di imperatore nel frattempo l'imperatore dovrebbe fungere a monarca costituzionale ma non le impedisce i sovrani che vogliono imporre la propria volontà sul concilio di svolgere un ruolo più autocratico cinque cardinali sono gli anziani statisti e dopo l'imperatore fanno parte il più importante organo di governo va bene l'arto cardinale e dei quattro cardinali che amministrano le province esterne le diocesi settentrionale e meridione orientale e occidentale lord giudice capo il giudice di grado più alto della magistratura sambraichiana Quinten presso servizio eccolo là sotto il precedente titolare di tale carica nutriendo per lui la massima stima per averlo sostenuto nella sua lotta alla corruzione tutto però cambiò quando Quinten scoprì che il suo beniamino quasi per gioco dava la caccia ai portatori il sostegno fornito a Quinten Quinten non era che una facciata per nascondere il degrado morale del lord giudice capo Quinten sfogò sull'uomo la sua collera ma la risposta che ricevette fu rapida e brutale il massacro di tutta la sua famiglia allora vicereggenza dopo l'annessione di Rosaria all'impero l'imperatore Silvestre decise di non governare direttamente la nuova provincia ma di delegarla a Annabella in precedenza duchessa di Rosaria uno dei suoi primi provvedimenti da vicereggina fu l'istituzione dei scudi neri finirono in seguito per agire come un esercito privato va bene va bene ma questo è uguale tipo boh va bene sembra uguale la cosa c'è scritto alla perduta un insediamento situato nella parte centrale di Sambra e che conferì il nord orientale di Gran Bosco inizialmente aveva raggiunto la prosperità come punto di sosta per i mercanti generanti ma poi è caduta in disgrazia quando altrove sono state costruite strade migliori finendo per essere cancellate alle mappe il villaggio è costruito sopra e attorno delle rovine dei decaduti che gli abitanti della perduta chiamano aeronave poi è caduta in disgrazia e finita cancellata alle mappe oggigiorno il suo anonimato contribuisce a celare il suo crescente stato di rifugio per i portatori che lavorano nei vigneti circostanti per conto di Quinten Alderman è collaboratore di Sid mentre le botti Gautoland Rouge invecchiate nelle cantine di Lada Perduta forniscono al villaggio i fondi necessari era caduta quasi completamente in rovina quando il suo obiettivo consisteva nell'ammassare abbastanza forse a vendicarsi il loro giudice capo di Sandbrek e non ebbe difficoltà a trovare altre persone che avevano sofferto per mano sua disposto a unirsi a lui temendo da rappresare il loro giudice capo inviò gli scudine e dice io non capisco perché questa storia che è così figa e così interessante l'hanno relegata a una costa secondaria e il loro giudice capo non ha letteralmente una faccia questa cosa mi manda i pazzi in passato questo piccolo villaggio vantava una prospera azienda vinicola purtroppo tutti quegli anni di duro lavoro svanirono in un istante quando gli scudine rinviati al loro giudice capo diventarono akashic e disseminarono morte e distruzione ovunque tuttavia prima che i pochi abitanti sopravvissuti potessero ricostruire il villaggio un flusso di etere di costenza rifugiarsi ai vigneti a est qui Quinten sta cercando di fondare un nuovo villaggio con la sua famiglia impiccato la taverna di Quinten ad alla perduta è in un certo senso il cuore pulsante del villaggio oltre a essere un luogo in cui gli abitanti si ritrovano per bere manchettare a festeggiare il punto di riferimento per tutti i mercanti dineranti che intendono fare incetta il famoso vino di alla perduta Piana Nord è una cittadina che funge anche ad accesso difensivo alla sacra capitale di Oriflam a Sanbrek era stata costituita un avamposto militare va bene ok la guarnigione le locande i bordelli frequentati i soldati sono situati nella parte settentrionale della città dopo la caduta di testa di Drago le terre circostanti lasciano i campi si sono le terre delle terre circostanti si è prosciugato i campi sono rimasti incolti ormai è memabile praticamente tutti i posti vengono abbandonati dopo l'attacco dei servitori di Ultima quando i cieli si sono fatti plumbe una parte la vecchia capitale è andata perduta per colpo di un flusso di etere l'impero ha inviato un alto cardinale per fondare un nuovo impero a scapito ai cittadini è stato allora che i servitori di Ultima sono discesi a nord e a sud delle grandi mura costringendo i cittadini a decidere se abbandonare le loro case o combattere e forse morire per i loro amati gli abitanti hanno scelto la seconda opzione e dopo una sudata battaglia l'alto cardinale si è finalmente convinto a collaborare con l'amatora Isabel riportando a Parvenza di ordine Velo è la migliore casa di compagnia di Piana Nord sebbene sia frequentata per lo più dalla nobiltà dei militari Sunbreak l'Isabel accoglie a braccia aperte chiunque abbia il desiderio e la possibilità economica di godere e di piacere le argite e i suoi abili cortigiani e cortigiane pochi esercizi dell'impero sono così amati e frequentati come il Velo è Mur è quello pieno dei tizi che sono ordine portatori questa è la battaglia di Walud alla fine è voluto ottenere il proprio avamposto a Ciclonia perché vabbè Mamut si è ritirato questa è l'ascesa dell'imperatore Olivier l'abbiamo letto l'abbiamo già visto quindi c'è stato Silvestre che ha abdicato a favore del secondo genito con appunto Dion che vedendola come un'altra vittoria per Annabella nella sua lunga campagna mirata a sovvertire la politica sunbreakiana il principe Dion ordinò ai dragoni di agire purtroppo avendo perso il controllo il proprio icon distrusse inavvertitamente la città che stava cercando di salvare l'abbiamo già visto Gran Bosco bene posto pericoloso i colli di Orabel c'è l'uva l'abbiamo visto pure valle di Norvent una vasta valle fluviale Glorioso va bene una strada unito del drago una piena nuova leggermente in pendenza ospita numerosi guirme selvaggi cascata del re va bene un afflusso di bestie in fuga al conserto molti abitanti ad abbandonarla quando mai l'occhio della tempesta qui dove abbiamo combattuto Garuda ora non resta che una distesa annerita priva di vita come neanche nelle terre morte colpite alla piaga che gioia bello è un store d'accordo bella questa immagine tra l'altro Granaio è la regione sovrasta allo stesso di Auta i abbandonati raccolti hanno nutrito l'impero per generazione finché la piega non l'ha raggiunto allora Repubblica di Dalmechia una nazione formata da una federazione di 5 stati minori situata nella metà meridionale al continente dei cicloni e alla sua capitale a Randellà ospita anche il cristallo madre noto come zanna di drago non ha una religione in stato ufficiale città di insolibere venerare ciò che desiderano c'è il Parlamento formato ai ministri rappresentanti singoli stati con un primo ministro in carica ospita anche il cristallo madre noto come zanna di drago all'interno del quale si erge Castel Datsbog dove vive Ugo Kupka Kupka ha ossessionato di trovare Sid per vendicarsi all'uccisione Beneditta Harman ha costretto i soldati in regno ha commettato una serie di atrocità per attirarlo allo scoperto avendo perso zanna di drago il possente titano la situazione politica in Dalmechia si è deteriorata drasticamente ma le forze leali al fai il maresciallo da poco reintegrato sono state dislocate in tutta la Repubblica per mantenere la fragile pace una schiera dopo la caduta di zanna di drago una schiera di soldati Akashic e orchi è piombata sulla capitale arrivando quasi a distruggere col poco di ordine tuttavia grazie all'intervento del principe Dion e i suoi cavalieri dragoni il disastro è stato evitato Andella è la capitale di Dalmechia gli affari della nazione vengono gestiti dal ministro della giustizia al centro della città dove risiede il parlamento dei ministri tuttavia dopo che ultima ha lanciato primo genesis e le strade di Randella sono state abbandonate alle mani soldati i voli di Ania Akashic e uomini bestia fuori controllo casa del Dazbok è la casa di Ugo Kupke dentro il cristallo zanna di drago comunque sia una bella per l'ora questo è contrariamente agli altri cristalli che si ergono dal terreno per dominare le terre circostanti zanna di drago è completamente racchiusa in una vasta cavità dentro un'antichissima montagna le cui formazioni mineralie si estendono verso il cuore della conca nei secoli e stazioni questi cristalli ha portato a grandi ricchezze dalmec va bene si dice che si racconta in giro è stato distrutto a Sidi il fuorilegge però qualunque sia la verità la perdita del loro cristallo madre ha presto portato dalmec a tavolo di negoziazione e ha disperato tentative a far cessare le ostilità con l'impero cadute zanna di drago nell'attacco scomparve anche Ugo Kupke la perdita del loro è con costinità dalmec a carcelare a ripetere il conflitto forte di Zirnitra è quello dove abbiamo visto all'inizio che i Dalmec e i Volodiani stavano cercando di trovare un accordo per fermare Sangueferro gli uomini del pugno sono l'esercito permanente di Dalmecchia ognuno dei suoi cinque stati ha relativa autonomia nel gestire le proprie truppe a parte alcune squadre specializzate i soldati inviati in battaglia sono suddivisi in piccole unità composte da fanterie e maghi da battaglia le unità di fanterie sono tenute per le loro spade ricurve e le loro asce prodigiose mentre gli uomini della roccia sono quelli fedeli a Kupka una parte idolata il suo comandante per i risultati politici e finanziari che questo ha ottenuto dopo la morte di Kupka le sue forze si sono sparpagliate tornando per lo più nelle campagne per dedicarsi al brigantaggio che belle persone abbiamo il Parlamento sette ministri responsabili del governo della nazione anche se la loro volontà è spesso condizionata a quelle loro consulente economico permanente Ugo Kupka dopo la morte di Ugo Kupka la Repubblica è piombata nel caos Kostnish una città situata nell'aspect disceso del settentrionale della Repubblica dal Mechia ormai non restano che rifugiati i sciacalli del mercato nero che approfittano di loro e soldati sufficienti giusto a mantenere la pace o meglio fingere di mantenerla quando non vengono corrotti per guardare dall'altra parte che bello la locanda di Dalimil è una vera e propria oasi nel velcro Dalimil offre merci cibo e riposo ai viandanti in particolare si dice che le sue terme alimentate dall'acqua circostante curino ogni genere di mali dei buboni e delle afflizioni pelviche molte delle quali vengono contratte proprio ai numerosi bordelli di Dalimil quando un orde ai banditi Akashic è arrivata alle sue porte Lubur noto fabbro locale ha convinto le guardie cittadine e la lega dei mercanti a mettere da parte le loro differenze per collaborare nella lotta per la sopravvivenza per farlo non solo sei guadagnato nel farlo non solo sei guadagnato rispetto agli abitanti ma anche la posizione di sindaco e questo nonostante sia un portatore il bacio dell'Erica è la forgio di Lubur il mastro fabbro del bacio dell'Erica è un uomo dei molti titoli e qualità forgiatore senza pari lepre del deserto Rosina Dalimil che è il grande amico e leato del compianto Sidolfo Stellamon le guardie cittadine sono truppe volontarie guidate a Conrad ogni membro della guardia è nato e cresciuto a Dalimil e a cuore futuro è la città molti dei minatori che avevano perso il proprio sostentamento dopo la caduta di Zanna di Drago hanno trovato un nuovo scopo nella guardia cittadina lega dei mercanti ne fanno parte i mercanti della città ed è guidata a Nathalie la sovrintendente del mercato fu proprio lei a capire che armi e soldati non erano sufficienti si doveva venire la cittadinanza Lord Underhill l'alterego di Clive o meglio la maschera che Lubur per la sua tetralità gli impose di portare fu Lord Underhill della lega dei mercanti di Randellà a far sapere a Nathalie che l'aiuto della capitale non sarebbe mai arrivato e che l'agente di Dalimil avrebbe dovuto collaborare per fornire le proprie scorte Jill fu decisamente più convincente al ruolo di Lady Jane delle ali rosse suggerendo a Conrad l'idea di formare una guardia cittadina Boklad è una franellica città mercantile nota come anche Mille Tavoli le porte secondarie della città la collegano alla Via del Cristallo sono attentamente sorvegliate le caravane scarlatte sono una compagnia di trasporti guidata dai fratelli Theodor ed Eloise per un piccolo compenso trasportano tutto ciò che deve essere trasportato e se il carico è costituito da portatori recentemente liberati potrebbe anche decidere di pagare i tasca loro Tabor un antico insediamento nella parte centro di Dalmechia un ricco mercato di cuoio di alta qualità tuttavia lungo isolamento della cittadina ha portato a una chiusura ha portato a senza H una chiusura nei cuori i suoi abitanti che ancora oggi restano in ospitale confronti ai visitatori ha insaputa dei cittadini e da qui che fin dalla caduta ai Rosalit la congrega segreta e la listitucale nota come imperituri porta avanti i propri doveri verso la Fenice Tabor è stata fondata dai cosiddetti guardiani del cristallo a cui si unirono in seguito nomadi cacciatori e raccoglitori creando la cultura mista che è contretta in singola città ok c'è Ratina un insediamento per un certo periodo ha cospitato la cosiddetta rega di fuorileggia almeno finché l'improvviso arriva in fulso dietro era un'altra sonota e bandina Akashic peschio villaggio abbandonato Kaslo Kaslo Kretov piccolo villaggio dalmechiano va bene tutti morti tutti scappati Dravos è una città situata nella regione mineraria tra le aspre montagne famosa per i suoi fabbric è dovuta in gran parte alla qualità dei minerali estratti nonché al gran numero di artigiani presenti Alleanza Sud-Occidentale è un'intesa formata dalla Dalmech e il Ducato di Rosale nel 1950 con l'intento di prevenire che le città libere di Canver si dichiarassero indipendenti dalla Repubblica sebbene col tempo l'alleanza divenne un triunvirato con l'ingresso di Sandberg i legami tra Dalmech e Rosariani restarono particolarmente forti al punto che Rosaria condivisse segreti alcune tecniche fondamentali come l'irrigazione e vari diplomatici godevano il diritto di libera circolazione tra le due nazioni Battaglia della Gola di Nisa 873 Dalmechiani sperando di porre fine a lungo conflitto con i Sangueferro avevano convocato un concilio nella forzezza di Zirnitra supplicando gli alleati i volodiani di aiutarli le trattative non ebbero successo e Dalmechiani non rimase altra scelta se non affidarsi ancora di più alla forza del possente Titano verso cui si consideravano già in debito e così si arrivò allo scontro tra Titano e Shiva lei con dei Sangueferro che causò inorevoli perdite da entrambe le parti consultazione Zirnitra concilio tuttavia le diane si dimostravano poco incline a cedere alle richieste di Dalmech costringendo la Repubblica a schierare Ugo Cucca così facendo il Parlamento si indebitò ulteriormente nei confronti di questa potente figura madonna se scendeva Udino sciottava tutti durante la battaglia dei Reini e Gemelli la Gola di Nisa fu teatro e ripetute schermaglie il deserto del Velcro vasta e arida regione selvaggia nella Repubblica sabbie infide resti insediamenti abbandonati a sud è possibile trovare dell'acqua per la precisione acqua bollente qualità che ha permesso alla Locanda di Dalim di creare delle terme nonostante l'ambiente ostile commercio è sicuro un traffico costante Fauci è una regione montusa e selvaggella dal mechia sud occidentale Forra di Letni una stretta valle di arenaria che attraversa la parte nord-olentale della Dalmechia o Fosso di Zanachis una vasta cavità nel terreno situata nelle piane dell'Oglio una desolata regione costiera della Dalmechia orientale nonostante per secoli le acque dello stretto di Auta siano defluite costantemente nel profondo cratere questi non sembrano volersi colmare si narra che qui sia avvenuta la tragedia nota come i peccati di Zanachis nell'era dei decaduti gli uomini sperando di acquisire il potere degli dèi assediarono il cristallo per cercare di accedere al suo cuore ricco di etere piuttosto di respingere l'assalto ultima decise di distruggere il cristallo e il suo cuore il grande cratere è rimasto una testa in mananza e l'arroganza agli uomini Echi di Crozget Crozget va bene Echi va bene oh regno di Walud l'unica nazione rimasta a Cineria Walud ha la sua capitale a Stony era a sede il cristallo madre e il dorso di drago terre fortemente belicose l'adoro notevole potenza militare serve a tenere a bada alle nazioni circostanti sebbene Walud vanti sulla carta un'alleanza con la Repubblica ed Almechia situata nella ciclonia meridionale si tratta di un rapporto di pura convenienza non tutte le nazioni circostante non tutte però si fanno intimorire e la costante necessità di respingere le orde di uomini bestie impedisce ai realisti di lanciare la vera e propria incursione a ciclonia è governata da Barnabas Talm dominante di Odine e guardiano dell'oscurità il quale ha recentemente inviato a ciclonia un'unità di agenti incaricate di analizzare la situazione prima di un'invasione vera e propria avendo ceduto territorio all'impero di Sandbrek dopo la battaglia dei reni gemelli i Validiani hanno lanciato un assalto contro Belenostoro nell'873 con l'intento di riguadagnare l'accesso perduto al continente oltre allo stretto dopo l'occupazione imperiale sponde a gemelle sorprendentemente l'incursione all'impero di Sandbrek nel dominio cristallino non ha provocato alcuna immediata risposta da parte del re il quale sembra stia prendendo tempo per considerare la sua prossima mossa zona di drago riuscita a ridurre all'obbedienza le violente orde di uomini bestie che con tempo affestavano le sue terre convincendola a dirigere la loro aggressività verso i suoi nemici queste forze settate ai sangue sono state schierate a zona di drago nella repubblica di Dalmechia è governata a Barnastar il quale ha formato un'alleanza con il mestiere lo so essere noto come ultima dopo che quest'ultima ha lanciato primo genesis le forze combinate di Talmar composte da soccordati Akashic e uomini bestie sono state schierate in tutta Valistea incaricata di seminare caos e distruzione dopo la caduta della capitale poco dopo la morte di Barnabas Talm discendente di Zemechis strumento di ultima testa di drago viene distrutta lasciando la capitale Stonir priva di un cristallo madre di un re Paton Stonir capitale regno di Valud il suo cristallo madre dorso di drago si trova leggermente all'interno ed è collegato alla città tramite una gigantesca arcata la cui costruzione ha richiesto un anno un'intera montagna di pietra dopo la caduta è stato dove il suo cristallo è stato distrutto la sede dei suoi eleati ma la città era già perduta poiché il suo leader era morto in cima a una guia lontana i suoi cittadini erano stati ridotti a schiavi privi di volontà le sue strade erano occupate da orchi e bestie dorso di drago un cristallo madre situato a Stonir le sue ripide pareti assomigliano alle imponenti scogliere disseminate sulle coste di Cineria ed è possibile entrarvi soltanto tramite un passaggio solitario in pietra che ne collega il cuore alla città essendo l'ultimo cristallo una risorsa essenziale per i vuole di Ani ma comunque è insufficiente a stazziare la prova di Volude tanto che il suo re è costretto a cercare nuove fonti altrove la caduta di coda di drago ha fatto sì che per un breve periodo il dorso di drago fosse l'unico cristallo madre rimasta palistea tale periodo si è però concluso bruscamente quando anch'esso è caduto dopo l'incredibile sconto tra Clive e ultima ah sì giusto vero vero sì sì è ultima ultima sì 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 giusto 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 combatti combatti ultima il cristallo non lo rompi quando combatti Odino giusto nello 778 Dottone venne scossa ulteriormente la distruzione del suo cristallo madre dorso di drago permane si di furilegge il Denmark è un tempo il regno più potente di Cineria fino a quando Barnabas Stalm guidò le sue armate ribelli contro di esso e stabilì il proprio regno di Valud sulle sue rovini ancora fumanti mura di Corvolesto l'imponente passione di Corvolesto riempie la stretta valle che separa due cime adecenti creando una barriera quasi impenetrabile avuta a proteggere la capitale reale da qualsiasi esercito intenzionato ad avvicinarsi a sud ovest un tempo sorvegliato da centinaia di soldati ormai le sue mura sono ambitate soltanto a pochi orchi e dalle bestie liberate sia ai propri recinti prigione di Balmung una prigione simile a un colosseo situata subito a nord delle mure di Corvolesto i portatori venivano condotti qui per divenire gli sventurati strumenti impiegati in ambiziosi esperimenti militari mirati ad adestrare bestie da guerra indomabili quando il regno è caduto i carcerieri hanno perso la propria volontà per effetto dell'etere e i portatori sono stati abbandonati nelle loro scelle a morire di fame allora Chiara Horn è una vecchia fortezza nella distanza occidentale era New Evolud dalla sua vicinanza a Ciclonia viene spesso usata come punto di sosta dall'esercito reale il forte sembra essere stato costruito sopra delle antiche rovine in una camera sotterranea simile all'opoditerio e il portafenice è stata scoperta una riproduzione intatta del pantheon degli Econ di Ultima Cavaliere reali di Evolud forse militari principali al regno di Evolud anche note come guardia del re rispondono al re Barnabas solitamente gli ordini per i cavalieri provengono al loro lord comandante gli agenti reali in un'unità speciale guidata a Benedicta Arman la dominante Garuda sono l'unica accessione a questa regola poiché rispondono direttamente al re come da istruzione di Ultima Re Barnabas ha rafforzato i propri ranghi con l'introduzione degli orchi creando una forza ibrida schierata per portare sconfio a Valistea anche dopo la morte di Barnabas il caos seminato da ultimo con il lancio di Primo Genesis ha continuato a espandersi condannando buona parte dell'esercito e del defuntore a trasformarsi in Akashic previ volontà propria gli agenti reali sono un'unità l'élite guidata da Benedicta Arman che conduce incursioni clandestine nel cuore del territorio delle nazioni nemiche con vari obiettivi tra cui soprattutto spionaggio assassino contrariamente alle forze volotiene principali rispondono direttamente al re o almeno così era fino al loro scioglimento dopo l'attacco a sorpresa di Sida e Clyde contro Garnorvent Estla insediamento situato nella regione minerale del cuore di Valud fin atto di minatori con l'avvento dell'arche i suoi abitanti sono scomparsi Mikkelberg un insediamento situato nella parte meridionale di Valud divenuto un luogo di ritrovo per i seguaci del culto del Salvatore recentemente emerso a Cineria il che ha spinto gli imperitori a inviare sul posto una missione investigativa Garnik di illico villaggio montano nel regno di Valud qui si era stabilita una vecchia conoscenza di Erpocrates accumulando una vasta collezione di tomirari prima che le macchine in suoni di ultime e Barnabas ha trasformato le regnine Akashic Talan insediamento minerario nella parte meridionale del continente nota per la damantite una risorsa molto ricercata per la sua resistenza impareggiabile ma questo al tempo stesso dono una maledizione poiché ha portato a ripetuti attacchi a parte dei orchi sebbene in passato fosse ben protetto l'espansione della piega ha portato i cittadini a abbandonarla al collegio di Badbach orfanotrofe orfanatiscente per portatori situato su una collina che domina le verdi pienure di Virdar Virdar Grae Virdar Gress Avalud i bambini che vivono qui non venivano accuditi piuttosto sottoposti di esperimenti subendo torture strazianti per trasformarli in armi impavide senza cervello un'educazione a cui pochi sarebbero sopravvissuti costa ombrosa zona dello scopaggio scuire scoscese se però esistono i punti di accesso sono pochi stretti e pericolosi cioè nonostante sono stati più volte utilizzati per lanciare il corso in segrete oggigiorno soltanto i avventori ai piedaci osano mettervi i piedi a causa della piaga Reverie la monoletta la monoletta regno di ferro noto nella lingua locale come Aheran il regno di ferro nazionale arciperago situato a largo della costa occidentale ciclonia con Creagloist come sua capitale soffio di drago si erge in un'isola volcanica situata all'interno all'esterno a seconda dei punti di vista dei suoi confini ed è oggetto di un lungo conflitto tra sangueferro e rosaria gli evidenti del regno di ferro rifugono il contatto con i forestieri cultura unica e isolazionista si erge in un'isola volcanica venerato come una divinità secondo quanto stabilito è andata una religione di stato l'ortodossia dei cristalli la stessa religione ha dichiarato anatema l'uso della magia e i portatori dominanti che la utilizzano sono considerati aberrazioni peccaminose il che ha portato a una discriminazione ancora peggiore rispetto a quella subita dai loro fratelli sulla terraferma dato il loro desiderio di controllare tutti i cristalli madre l'approccio di sangueferro verso le altre nazioni è di costante antagonismo il patriarca nonostante teoria sia una monarchia la persona più potente del regno in realtà è il patriarca il sacerdote a capo dell'ortodossia dei cristalli egli governa l'isola di Beneleodra più nota ciclonia come Monte Drustanus sul quale si erge il cristallo madre soffio di drago qui inumerevano i portatori rapiti alle loro case ciclone cineria vengono tormentati in nome di una religione che non li riapputa neanche esseri umani dopo la caduta di soffio di drago la perdita del cristallo del patriarca capo dei sacerdoti al suo servizio ha gettato il regno nel caos lasciando la monarchia in cerca di un leader esterno alla sua famiglia reale politicamente insignificante che è Gloiste la capitale di Iran altrimenti detto regno di ferro situata sull'isola di Ferralia nel mar ribollente non l'abbiamo vista soffio di drago cristallo madre che dominava le acque tra rosare e rendono di ferro rendono di ferro vabbè questo l'abbiamo abbiamo già visto l'abbiamo già letto caduta ai soffio di drago quando il suo cuore si infranse la rovina cadde non solo sul monte ma anche sull'intera isola nell'attacco resta ucciso anche Imran il patriarca della fede nota come ortodossia dei cristalli è un'isola monte d'ustranus è un'isola vulcanica solitaria col tempo è caduta in mano ai crociati che la considerano accesso al continente ciclonia i crociati sono la forza militare del regno di ferro il comando delle truppe appartiene al re il cuore impartisce direttamente gli ordini e i singoli battaglioni solitamente i soldati di sangue ferro preferiscono pesanti randelle asce le spade e altre armi leggere questo approccio brutale è indicativo il loro atteggiamento per colpa del quale hanno ottenuto la reputazione guerrieri selvaggi e primitivi crociata ribollente un attacco a sorpresa sferato al regno di ferro contro il ducato di rosaria nell'860 all'epoca rosaria era gravemente indebolita avendo perso la città elvin rosslite essendo nel caos dopo l'assalto a portafenice i sangue ferro scaglierono una serie di assalti contro i rosariani rientrando in patria con un bottino umano composto da innumerevoli giovani donne e bambini tra cui i giluari bambine rienti solo bambine il dominio cristallino è un piccolo stato indipendente situato tra i continenti di ciclone e cineria la sua capitale sponde gemelle è costruita sulle minuscole isole dell'arca dalle quali si erge il cristallo madre coda di drago la mancanza di un dominante ha fatto sì che il dominio fosse soggetto a continue manovre politiche militari nel corso degli anni e solo di recente è stato stipulato un patto di non-aggressione verso queste terre neutrali la nuova capitale imperiale quello che un tempo era lo stato indipendente situato tra i continenti di ciclone e cineria la sua capitale sponde gemelle è costruita sulle minuscole isole dopo la distruzione di testa di drago l'impero ha dichiarato sponde gemelle la sua nuova capitale ignorando il patto di non-aggressione sebbene controversa questa mossa portata avanti al principe Dion e ai suoi cavalieri non ha incontrato grandi opposizioni però più a caso a dire mancanza dei dominanti nel dominio ironico dopo la ribellione quando il principe Dion le Sace e i suoi dragoni hanno organizzato un colpo di stato gli equilibri sono nuovamente cambiati mentre le istituzioni imperiali precipitavano nel caos all'istituzione del dominio e oltre andava incontro a una sorta simile dopo 5 anni il dominio di Sandberg sulla regione si è concluso con la stessa rapida con cui era iniziato dopo il sveglio di origine poco più tardi di seguire la caduta è l'ultimo cristallo madre in regno d'orso di drago e gli sfortunati abitanti di Sponde Gemelle hanno avuto l'ulteriore sventura di vedere sorgere da sotto la loro città un'antica costruzione che ha seminato morte e distruzione spazzando via buona parte della popolazione già decimata Madonna Sponde Gemelle è l'ex capitale il dominio cristallino dopo una manovra unilaterale il sacro impero di Sandberg è diventata la capitale imperiale coda di drago cristallo madre situato nel dominio cristallino uno dei cinque cristalli rimasti a Valistea nonché il più grande quando la sua sagoma si erge nel sole e il tramonto svettando sull'isola del dominio coda di drago è davvero uno spettacolo mozzafiato dopo la caduta è andato perduto nel caos che è seguito alla ribellione guidata dal principe di Onlesage ma non prima di aver subito un'incredibile trasformazione mai vista prima in tutta la storia di Valistea il cristallo è come fiorito perdendo i suoi frammenti come petali di una margherita delle nevi per rivelare il sacro cuore al suo interno cadute i coda di drago va bene curiosamente molti sopravvissuti al caos di quella notte affermano che il cristallo sia sbocciato come un fiore prima di essere distrutto isole dell'arca sono le piccole isole su cui sorge il dominio cristallino e sono per lo più artificiali essendo state costruite su rovine preesistenti il pinacolo luccicante al centro dell'isola ospita il cristallo madre del dominio peccato non si sia visto bene di sole dell'arca il patto di non aggressione serviva a cementare la posizione del dominio al centro del mondo politico evitare che le sue figure chiave sfruttassero dalle posizioni in pass dei cristalli conflitto combattuto tra il sacro impero di Sambra e la repubblica e Dalmei che erano 878 per il controllo del dominio cristallino questo è successo diciamo off screen in precedenza il dominio era protetto da un patto di non aggressione ma nel 873 l'impero reclamò sponde gemelle un atto che spinse Dalmec alla mobilizzazione militare questo non l'abbiamo visto sappiamo solo che è successo tuttavia quando la repubblica si immobilitò si ritrovò in grave minoranza numerica la distruzione di Zana di Drago da parte dei cittadini del fuorileggio indebolì ulteriormente la loro posizione con la propria patria nel caos e Dalmec fu uno costo eternico se non era ritirata Olivier Lestage fu ritenuto il principale responsabile di questi sviluppi pertanto ricevette il titolo di principale di Sambra la via del cristallo è una rotta commerciale protetta tuttavia negli ultimi anni la regione è stata travolta dai rifugiati in fuga va bene città libere di Camber una federazione di città-stati indipendenti situati nella parte sud-orientale del continente di Ciclonia originariamente facevano parte di Dalmecchia però queste città non hanno avuto l'indipendenza all'857 priva di un proprio esercito si affida a guardie cittadine composte da mercenari e soldati da mercanti artigiani sfortunatamente le guardie cittadine della città stessa sono state decimate dalle truppevole di Anakashic avendo perso i propri leader politici le città libere non c'è stata questa nazione andagnata di nota madonna si va bene d'accordo erano indipendenti portare politico in mano a un consiglio di Capigilda la mancanza di un dominante di un cristallo madre va bene vecchia Camber è un vivace centro di attività mercantili in cui è difficile muoversi a casa le numerose botteghe una forza militare è la guardia cittadina è una forza militare privata impiegata per mettere la pace alle città libere di Camber i suoi veri consistono per lo più nel pattugliamento e nel mantenimento dell'ordine all'interno delle mura Fonderie è un cantiere navale pienamente operativo situato all'interno della capitata di Grotta Marina ai margini di Camber le alte scogliere e le forti correnti che la circondano c'erano all'interno occhi indiscreti e qui che Mid insieme agli altri alleati sta ultimando in segreto l'enterprise dipendenza di Camber la lotta per l'indipendenza delle città libere iniziò nel 49 quando questi diversi grossi Capigilda annunciarono il loro desiderio di separarsi alla Repubblica va bene ok l'hanno raggiunta continente l'abbiamo letto banditi va bene coloro che guadagnano rubando agli altri i loro cadaveri il banditismo è vietato in ogni angolo del regno e chi lo pratica tende a tenersi alla larga alle forze dell'ordine alcuni briganti scelgono di riunirsi in piccoli eserciti per avere insieme abbastanza forza in compiere incursioni in città e villaggi pietre lavorate sono una banda di briganti che si è accampata nella forza di Letni nella periferia di Boklad costringe la gente a svuotare le tasche e borseggiare gli altri sotto minacce di morte consorzio picco argenteo una delle più grandi e prestigiose casate commerciali della Dalmechia che di recente ha cercato di reclutare Eloise delle caravane scarlatte le sue attività mercantili vanno ben oltre i confini della Repubblica come apprezzo Eloise quando intervenne all'ultimo momento per acquistare i portatori per i quali le caravane scarlatte avevano negoziate a lungo in realtà erano interessati allo scambio fin dall'inizio e si erano assenuti a fare la loro offerta solo per cortesia nei confronti di Eloise un'offerta che era stata annullata dopo che lei non aveva risposto positivamente a quella che aveva avanzato l'oro mar ribollente il mare che separa le coste occidentali di Rosaria e le distanti di Usola del Regno di Ferro stretto di Naldia una regione di mare a sud dello stretto di Auta tra i continenti cicloni e Cineria le sue coste occidentali sono costellate a dei porti commerciali e le città libere di Canber sebbene si è dotato ai forti correnti i suoi cieli sgombri da tempeste e l'abbondanza di fauna marina permettono allo stretto di produrre buona parte il cibo della regione setto di Auta setto Canale va bene le sue coste non hanno mai carenze di soldati o di tensioni politiche dai ce l'abbiamo quasi fatta territori settentrionali ah questo è interessante non ne abbiamo mai visti una regione gelida nelle distesse settentrionali del continente di Ciclonia originariamente ospitava il cristiano madre noto come occhio di drago attorno al quale era assorto una serie di piccole nazioni la cui belligeranza negli anni si è dimostrata problematica per Rosaria col tempo tuttavia il potere del cristallo si è ridotto e connesso la potenza di queste nazioni quando la piega è ulteriormente circondata il territorio le tribù rimaste si sono unite e si sono state pacificate dall'arciduca Elwin Rosfield di Rosaria dopo la caduta di Porta Fenice negli anni successivi alla nessuzione di Rosaria da parte dell'impero l'inesorabile avanzata è la piega e la mancanza di interesse nei suoi territori da parte di Sambra che hanno accelerato il processo di destabilizzazione della regione isole meridionali è una nazione che in passato era situata su un arcipelago in mezzo ai mari e il sud di Valistea purtroppo la caudale incursione della piega ha destabilizzato e infine distrutto completamente questa società eh questo non l'abbiamo nemmeno visto Corno di Drago è un cristallo madre eh neanche questo che sergeva nella Cineria Meridionale anche questo non l'abbiamo visto la caduta di Corno di Drago ha fatto sì che Dorso di Drago restasse l'unico cristallo madre sul continente scatetando un conflitto decennale per il controllo del suo etere dopo molti spargimenti di sangue quella che all'epoca era l'anzione di Veldermark e riuscì finalmente a soggiocare le tribù in guerra di Cineria affondare un regno intorno alla città oggi nota come Stonier occhio di Drago era un cristallo madre che si ergeva nelle distrese ghiacciate e la ciclone settentrionale anche questo non l'abbiamo visto poco dopo la caduta del cristallo madre le tribù del nord in preda alla disperazione marciano a sud verso Rosaria guidate dalla dominante di Shiva ne eseguì una terribile battaglia che vede contrapporsi fuoco e ghiaccio ma alla fine la Fenice la forza del Ducato riuscirono a spingere gli invasori almeno per qualche tempo e poi Zemechis l'altro cristallo che si ritiene si ergesse in una zona nella parte nord orientale di Dalmechia però questo è proprio antichissimo intanto che non ha un nome perché era periodo dei caduti è andato distrutto nella battaglia tra uomini e dei una battaglia così feroce da aver lasciato il grande cratere visibile oggi questo l'avevano letto ai peccati la guerra dei magi chiesa gregoriana religione di stato dell'impero di Sambrec i cui seguaci venerano la dea Gregor come unica vera divinità a capo della chiesa via il sacro imperatore eletto tramite votazione degli altri cardinali e teoricamente loro pari sebbene nella realtà questa sia soltanto la menzonia nota a tutti i seguaci di Gregor venerano i draghi come servitori sacri della dea e fin dalla fondazione dell'impero li hanno adorati e sono di pesi da essi l'ortosi ai cristalli è una religione dedita alla venerazione dei cristalli madre i suoi sacerdoti godono di notevole potere il patriarca capo e pastore dei fedeli è il più potente di tutti sebbene sia per lo più nota come religione di stato il regno di ferro un tempo era diffuso in tutta Valistea per i suoi credenti i cristalli madre sono vera e propria divinità e lo spreco di etere tramite l'uso della magia è rigorosamente proibito e si capisce perché pensano che sono divinità perché c'erano i cristalli parlavano perché c'erano gli ultimi adentro pertanto chiusa la magia portatore ai dominanti viene visto come un abominio subumano circolo di Malius l'amoletto culto del salvatore una religione nata recentemente a Cineria che affonda le sue radici i seguaci veneravano ultima come divinità è stata resa popolare dal re Tarnabarna Bastarna di Valud il quale era diffuso le preghiere e rituali tra il suo popolo i credenti vedono la trasformazione di Akashic come un mezzo per raggiungere la purezza ed essere liberati da tormenti del regno mortale battaglia dei regni gemelli un conflitto combattuto tra l'impero di Sambrec e il regno di Valud nel 865 le forze sambrecchiane con il potere dell'Eikon Bhamut al loro fianco ripresero lo stretto di auta dei Valodiani ponendo fino a un embargo che durava diversi decenni Valud nel disperato tentativo di fermare l'incursione strinse un'alleanza con la Repubblica di Dalmechia impedendo così l'impero il triunvilato al binoletto poi abbiamo un altro triunvilato dell'878 un'alleanza formata a Lord Barion Rosefield delle sette casate nella giudezza della sospendita villa di Porto Isolde secondo l'accordo raggiunto con coloro che aveva convocato in suo aiuto Lord Rosefield si sarebbe dovuto occupare dei rifornimenti il Fair Farmershallo a Ginevere delle faccende militari e qui intendi alla perduta degli affari politici e però poteva anche cambiarsi continua a dire coperti questi aspetti chiave i tre speravano di guidare Valistevers un percorso destinato all'unità dati i loro paesi di appartenenza rispettivamente a Rosaria Dalmechia e Sandberg il nome del triunvilato si ispirò al primo nodo trattato breccia interdimensionale è un luogo fuori dello spazio e del tempo definito breccia tra i mondi e la nostra oscurità dal suo creatore ultima Cleve e Joshua vengono evocati forzatamente in tale luogo dalla divinità folle affinché possano riflettere sulle loro trasgressioni quando si avvicinano troppo al cuore di dorso di drago dopo essersi aperti la strada con la forza i due emergono e scoprono che la loro vittoria contro Ultima ha portato alla distruzione del cristallo madre Origine una vasta struttura rimasta dormiente sotto il domino cristallino per innumerevoli secoli quando il pieno di Ultima ha finalmente raggiunto la sua fase finale Origine è stata evocata dalle profondità provocando immane distruzione e lasciandosi alle spalle cieli neri e torvi il suo aspetto ricorda in modo inquietante quello di un cristallo madre vasta struttura rimasta dormiente sotto il domino cristallino per innumerevoli secoli palesemente un disco volante tra l'altro rivelata sia essere la nave con cui Ultima e i suoi fratelli sono giunti a Valistea sebbene si sia disattivata durante il sonno dei suoi passeggeri è stata infine riattivata per eseguire l'ultima fase del pieno di Ultima per ricreare il mondo a propria immagine poi potremmo fare un lungo lungo discorso del fatto che comunque qui dentro ci sono tutti gli Ultima sopravvissuti che non sono i sedici che hanno fatto il giochetto dei cristalli e che quindi comunque Clive ha fatto un eccidio però vabbè non importa ha sterminato una civiltà consacrazione ci siamo la cerimonia rosariana in cui il dominante della Fenice consacra il suo primo scudo e gli conferisce la benedizione dell'Eicon nell'anno del regno 860 l'erede al trono del ducato Joshua Rosfield concesse la consacrazione a suo fratello Clive dando prova di tutto il suo amore fraterno e del rispetto e nutriva per lui questa cosa è molto simile a quella che faceva Regis con i Kingsclaves solo che questo è molto più figa e questo è quanto abbiamo letto tutto abbiamo finito possa questa conoscenza tramandarsi di generazione in generazione ce l'abbiamo fatta e con questo chiudo l'episodio extra finalmente è molto più importante